fine dei preparativi ora chi entra in azione elicottero pronto in tre minuti trasmettere le coordinate ci siamo tutti possiamo dare il via all'operazione preparate tutto per il lancio pronti per la warzone fuoco autorizzato su ogni minaccia fate attenzione l'assunto ti spingo io? va bene dai andiamo un po' lontanino qua gioca un po' con calma c'è venendo una squadra no eh ho fatto uno ucciso sotto sotto no c'è uno solo adesso si ho fatto l'altro non io ma l'altro ragazzo per tagli taglia in campo al lavoro no 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 ho fatto l'abbiamo fatto tutti eh no sì vado eh vado eh vado eh obiettivo principale raggiunto bersagli eliminati oh no oh 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 E' meglio che non ottenere il rinunato. Tu non mi vedrai più per il resto della partita. Perdete terreno, muovetevi. Ho visto, ho pingato davanti. Ho pingato davanti a me, un po' a sinistra, un po' a destra. E no, non ho visto, non credo. La tua squadra è nella zona sicura. Potenziamento da campo. Lancio di equipaggiamento in arrivo. Ecco. Ultima uccisione. Marco, il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. Sì. In realtà non capisco questo gioco ruolo, perché a me mi ci fai spesso queste cose. Siete solo in 25. Attenzione, c'è una stazione di acquisto nemica. Gas in arrivo. C'è una nuova zona sicura. Ricarico! Non mi vedo? Ecco. Ho scatato gli altri operatori di quella squadra. la tua ne è quello che è da dietro non c'è nessuno, sulla mini mappa c'è nessuno ah lì 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 fatto te dovresti giocare con questa con questa mitraglietta di questo fucile buonissimo il bus b quello mio che ti ho dato l'altro giorno tutti i compagni sono nella zona cura lì 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 c'è un carrello da qualche parte lì c'è... è un shopping no non c'è vicino no c'è uno lì no c'è a perdere c'è chi no lì c'è chi no davanti stunato fatto non vedo lì davanti a me il ritorno sta per finire mi raccomando ecco lì c'è chi no la strada ritorno disattivato adesso non si scherza più un po' di svantaggio ancora un po' nell'entrano c'è uno nella casa adesso dove andiamo nemmeno qui c'è il shop questo qui dietro qua vado vado no te rimani fuori a casa io entro lì non è la strada la zona sicura è piuttosto lontana datevi una mossa la corazza è una specie di decima vita c'è una granata o qualcosa ecco c'è un po' di svantaggio c'è un po' di svantaggio sicilare la maschera se no non fa niente c'è un po' di svantaggio c'è un po' di svantaggio c'è un po' di svantaggio adesso sei tra i primi 5 arriva i gas marco la nuova zona sicura un messo è sempre più vicino guardate alla zona sicura c'è molta strada attenzione ritorno non più attivo si fa sul serio siiii siiii che bella partita grandi noemi bellissima dai fai lavorare dai di chi c'è che mondi un po' il ritorno degli eroi valorosi siate il nostro orgoglio eh va bene hai attraversato l'inferno in Columet wow qui non stiamo hai capito? è parecchio hanno fregato le uccisioni un po' di svantaggio qui non stiamo un po' di svantaggio qui non stiamo qui non stiamo qui non stiamo